Buongiorno a tutti, 7.08, 8 minuti dopo le 7, sì, o 52 minuti prima delle 8. Oh, semplicemente, semplicemente le 7.08. Sì, semplicemente le 7.08. Buongiorno, oggi è martedì 14 novembre e questo è Good Morning Milano. Iniziamo la giornata qui su Crystal Radio e Milano News. Buongiorno Lorenzo Masieri. Buongiorno Fabio Ranfi, buongiorno a tutti voi che ci ascoltate e che ci iscriverete al 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5. Il nostro numero di WhatsApp, a cui potete scriverci, mandarci gli audio, le foto, i video, tutto quello che volete. Soldi non se ne possono mandare, ma sì, se mai iscriveteci ve li mandiamo noi lì per fare il bonifico, se volete. Non c'è nessunissimo problema, oggi è martedì, quindi parleremo di periferie nell'ultima parte di trasmissione, ma prima c'è tutto quello che fa e raccontiamo tutti i giorni. Good Morning Milano, quindi i giornali, poi vedremo anche il traffico, più avanti riusciremo appunto a collegarci con Luce Verde per appunto sapere qual è la situazione del traffico in nostra città e insomma tutto un po' così nella nostra giornata milanese come sempre. Buongiorno a tutti, iniziamo subito? Iniziamo subito sì, iniziamo con la musica, con la radio, quindi prima era la segna stampa, il manacchio e robe varie, iniziamo con la musica. E allora vi svegliamo questa mattina con un brano, vabbè se lo faccio sentire dai. Porta Venezia, sulle mani, siamo in Vialecco, siamo su Cristal Radio, un momento Pride, un po' così è stato, mi è piaciuto però così, ho voluto svegliarvi così con la carica. Sì, alle 7.12, Porta Venezia, sulle mani, love! A proposito di Porta Venezia, venerdì avremo con noi una rappresentante, una signora del comitato Lazzaretto che si sta battendo in questi mesi, ma mi permetto di allungare anche in questi anni per la movida diciamo che non vada a ledere la vita dei cittadini della zona. Come io poi l'ho messo a feste, ho già messo a fare festa e questa mi dice che non toglieci. Sapete che, vabbè, il comune ha preso provvedimenti, sono questioni di Deore, eccetera, Granelli hanno andato lì a vedere cosa stava succedendo. Ci faremo spiegare per bene perché io li seguo sul Facebook, a parte che hanno delle grafiche da... Non si può dire. Ah no, belle? No, sì, da CIA. Ah, pensavo da Boomer così. No, no, da CIA. No, perché c'è... Con le grafiche da CIA? Sì, loro c'è, giustamente, sì, giustamente, secondo me, comunque parlano di decibel troppo alti e quindi diciamo che li verificano in maniera il più scientifica possibile e quindi abbiamo delle grafiche molto interessanti. Vabbè, comunque ne parleremo con Elena del comitato Lazzaretto, venerdì, che sarà ospite ai nostri microfoni. Comunque l'immagine di Granelli che balla in mezzo a Via Lecco Festival era bellissima. Ah no, no, andato a ballare. Ah, io pensavo andato lì a ballare anche lui. Ah no, andato lì a controllare. Andato a controllare se effettivamente... Come quei film dove c'è la scena del ballo di fine anno e c'è il professore fermo in mezzo alla stanza dove tutti ballano e lui è fermo a controllare che non si bevano il punch. Va bene. Così, quella roba lì. Andato lì così... Ti faccio vedere per esempio una grafica, vedi? È proprio... Eh sì, dovrebbero vedere... Ah, con tanto di livello audio. Eh sì, livello audio perché alla fine il grande problema è quello. Via Lecco cos'è questo? 12 novembre. 12 novembre alle ore... Ah, due giorni fa. A mezzanotte. A mezzanotte hanno fatto una fotografia con... una fotografia diciamo telemetrica, con anche dei dati che riguardano appunto l'audio, come si dice, il suono, l'inquinamento acustico. Esatto. Vabbè, però, vuoi mettere, Garnelli che balla festival in mezzo a Via Lecco, cioè, secondo me... Un saluto all'assessore Garnelli che sappiamo sempre che ascolto e che ci vuole tanto bene. Grazie. Così, volevo salutarlo. Sì, sì, volevo salutarlo, volevo salutarlo. Ricordiamo cosa succede venerdì invece? Ricordi cosa succede venerdì? Sì, sciopero proclamato dai sindacati CGL e Will. Sciopero generale. Sciopero generale. Anche i Vigili del Fuoco fanno sciopero. Sì, sì, sì. Si rischia un vero e proprio venerdì nero, come scrive la Repubblica, disagio in vista per treni, aerei, autostrade, settore marittimo, ma anche scuole, impegno e il pubblico impiego e vabbè adesso. E altre cose. Non ci saranno problemi, assicurano però, da TM, perché si sposta in città con i mezzi pubblici, metropolitane, tram e bus, circoleranno regolarmente. Regolarmente, così dice TM ieri, in lunedì. Vediamo ora del venerdì cosa succederà. Sì, anche perché si prevede una forte adesione, considerando che sono... Dopodiché posso dire una cosa che io non sono mai molto d'accordo su questi sciopero e così del venerdì e tutto, però scusi, c'è uno sciopero generale, tutti i sciopero di sto mondo hanno fatto quelli da TM e non fanno quello generale. C'è qualcosa che non va, comunque. C'è qualcosa di sto. Guarda che bisogna anche capire, perché a livello politico, nazionale, ci sono dei problemi con il sciopero della stanza. Più niente, non si capisce, veramente. Anche una cosa semplice con lo sciopero è diventata molto complicata. Ormai siamo all'ufficio complicazioni. Vediamo invece come va il traffico. Luce verde? Guarantee Black Eyed Peas. Quasi la rima. Ma fuori onda parlavamo di grammatica, quindi stavo facendo anche un po' di assonanze. Ma posso dire parlavi di grammatica? Come sempre, ci sono le prove, anche provate, e già online, se volete andare a vedere sul profilo social di Milano News, c'è un reel di ieri, mentre io cerco di acculturare il qui presente Lorenzo Masieri su una canzone di Elvis Presley con tanto l'interpretazione fisica della canzone, non mi... Si può dire caga di pezza. Ma perché io nella pausa devo leggere comunque quello che... Non mi guarda, ti fa un sorriso di circostanza. Eh no, ma devo leggere per forza. E io qui che mi sbanesco, sbatto, ballo. E allora, cari amici di Cristal Radio, fatevi voi la segna stampa. Allora, io adesso ne... Non è venerdì, non puoi fare lo shop oggi. Se vuoi venerdì lo puoi fare lo shop, oggi no. A proposito. A proposito, è arrivato un WhatsApp. Ah, sì, sì, è arrivato un WhatsApp. 331-78-5355. Alberto ci scrive. Ciao Fabio, ciao Lorenzo, buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Cristal Radio. A te Alberto, a te. Cristal Radio. Milano si sente... E riprendendo il discorso di prima sullo shopero, sullo shopero al quale evidentemente aderirò, no, ricordiamo appunto ATM, ha detto che non ci saranno disagi, eccetera, poi bisogna vedere effettivamente... E tradire il fare. Invece Trenord e Trenitalia aderiranno alla protesta e si fermeranno a partire dalla mezzanotte, un minuto... Sì, del 17. Sì, esatto. Sì, le solite 24 ore canoniche. Con poi le facce di garanzia che cambiano però da regione a regione, quindi... Sì, esatto. Ci andrà bene a vedere. Andato a vedere sul sito di Trenord e di Trenitalia, che comunque per quanto riguarda shoperi e non shoperi, ho avuto esperienze recenti in famiglia, sembrerebbe essere... Ho avuto esperienze recenti in famiglia, che è successo? Mio nonno doveva prendere il treno. Chi, chi, chi? Mio nonno doveva prendere il treno due settimane fa. Nonno Masieri. Dove abita nonno Masieri? Mi interessa. Ah, non è nonno Masieri? No. Ah, nonno da parte di mamma? Sì, a Cormano. A Cormano. E doveva prendere il treno per andare dove? Eh, giù in Calabria. Ah, si faceva il viaggio. Nel giorno dello shopero e da quanto... C'è arrivato in Calabria? O non lo sentite per una settimana? Sì. Non capire. No, Trenitalia manda messaggi eccetera in tempo reale su quello che sta succedendo al treno. Allora, devo dire che effettivamente ho preso un treno. Io prendo i treni quando vado in vacanza, sempre. Ho fatto sapete, mi viaggio in Giappone, i treni, bla bla bla. In Italia non mi capita quasi mai perché abito in una zona di Mio dove non c'è il treno. E sono cresciuto in una zona dell'interno milanese dove non c'è il treno. Il quadrante ovest, si dice così. L'ho preso però l'altro ieri sono andato a Varese, sì. E ho dovuto, no, ho dovuto, ho voluto scaricarmi l'applicazione Trenodo. Ci ho messo un po' a capire come si fanno a timbrare su un settimolo più i biglietti. Si appoggiano alla macchinetta e fa blip, blip. Mi ha messo scritto avvicinano la carta, quindi io non capivo. Invece no, anche il biglietto si può avvicinare. Comunque no, questo per dire che la app di Trenord è fatta molto bene, devo dire. Quindi complimenti Trenord per l'app. Un po' meno per i treni, ma va bene, per le app. Adesso mi ha un po' rotto le balle per continuare a mandare delle notifiche sulla tratta che ho usato. Infatti le silenzierò. Però appunto prende, capisce dove si è andato e tu ti manda le informazioni. E c'è anche appunto la pagina, il pop-up dedicato agli shop. Una roba buona l'hanno fatta. E anche Trenitalia dal punto di vista delle comunicazioni. Tutto questo Italo cosa farà? No, credo che segue. Ah sì, dici che non segue? Solitamente. Sempre auto, ferro, tramvieri sono o comunque quelle roba lì. Io ho preso una volta Italo. Mi è sembrato un po' quello di... Un po' di... Ma è uguale, è uguale. Ma soprattutto tu hai preso una volta Italo, ma Italo quante volte hai preso te? Non lo so, non lo so. Sono qua, mai. Ok, vai, vai, vai. Giovanotti, il boom. 7.33, rientriamo dalla pausa perché ridi? Bello. Ma ricordi sempre che tu dicami Lorenzo per coppa sua, quindi non spuntare nel piatto in cui ti nomini. Ok, sì, sì. Ci sta, ha senso. Ha senso, va bene, ok. Rassegna stampa del buon Lorenzo Giovanotti Masieri. Questo sicuramente lo sapete, però lo riportiamo anche noi. Ieri, dopo Portello e dopo Fulvio Testi, in Viale Lucania, protesta dei ragazzi di ultima generazione. Infatti gli attivisti bloccano il traffico in Viale Lucania, che è in zona Corvetto, sud-est Milano. Reggevano uno striscione con scritto Fondo Riparazione perché il gruppo chiedeva al governo italiano di istituire un fondo permanente preventivo di 20 miliardi di euro per riparare ai danni delle catastrofi climatiche che stanno distruggendo le nostre vite, riporta il Corriere della Sera. Milano, intorno alle 8.45 è successo e dopo una ventina di minuti sono arrivate le forze dell'ordine a ripristinare la circolazione. Alcuni mobilisti, come in tutte queste occasioni, hanno insultato e provato a rimuovere i manifestanti di loro iniziativa prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. E quindi questo è ciò che è successo ieri mattina. Ieri pomeriggio io vi invito a recuperare le dirette del Consiglio Comunale di Milano del lunedì perché io ho visto la prima oretta... Vale la pena? Popcorn? Eh sì, eh sì. Cosa è successo? Innanzitutto, prima partiamo dalla notizia. Notizia. Il Consiglio Comunale approva la mozione che chiede il rilascio degli ostaggi, la tregua umanitaria e contanda l'antisemitismo appunto al Comune di Milano. Dice come dicevamo l'altra volta, e alla fine è un documento, cioè una roba simbolica alla fine. E ci hanno perso tre consigli comunali per farlo. Sì, io ero rimasto a tre, la Repubblica Milano dice quattro. Ah, vedi te. Dopo quattro ore in vino, non lo so. Ah, ok. Il fatto sta che passa con i soli voti della maggioranza, solo 22 sì. Sì. Tra l'altro maggioranza spaccata. Maggioranza spaccata. Ok. Sì, tranne Monguzzi. Ok, immaginavo. E il centrodestra non vota, se non ho capito male perché sostanzialmente si continua a modificare il testo. Io ieri ho visto appunto la prima oretta un po' velocizzata. si continuava a cambiare il testo e c'erano i consiglieri di centrodestra che mentre stavano spiegando un emendamento chiedevano, non è che lo state ancora cambiando, no? Perché risulta difficile poi spiegare, eccetera. Quindi... E il testo veniva cambiato mentre quegli altri dicevano vorremmo cambiare questo pezzo. No, non c'è già più da cambiare perché l'abbiamo già cambiato un'altra volta. Sostanzialmente andava così. Si continuava a mandare il testo, cambiare, eccetera. Tutto questo tu hai visto solo un'ora e non sei ancora arrivato alla conclusione? Sì, ma anche di più mi sa. Ok, no, questo volevo capire. Quindi più di un'ora per questa roba qua. Che ti ripeto, è di un'importanza fondamentale ma forse, decidete le cose prima di andare in consiglio a volte, arrivate lì con delle proposte che hanno un senso, non perdere tutte quelle ore in consiglio comunale. E tra l'altro, ieri ho letto nell'ordine del giorno, che appunto è visibile sul comune di Milano, che era in programma da discutere in consiglio anche l'estensione dell'orario delle Bike Me. Grazie, grazie Francesca Cucchiara, grazie, grazie, finalmente qualcuno che ascolta le istanze di noi utilizzatori di Bike Me. Una grande battaglia di masieri sull'orario di chiusura delle Bike Me. E non sappiamo un po' come è andata a finire. Beh, non l'ho ancora recuperato. Adesso andremo a capire come è andata a finire, allora va bene. Andiamo con un po' di musica. Alfa, bellissimissimissima. Alfa, bellissimissima, 7,40 minuti, bentornati su Cristal Radio, bentornati anche a chi ci scrive al 331-78-535-55. Un WhatsApp dedicato a me, dice bellissima la mattinata con voi, in realtà volevo dire con te Fabio e anche con noi, insomma, vabbè, ha scritto voi per crasi. Sì, ah, quindi siamo contro gli accenti, ma conosciamo la parola crasi. Sì, spiega perché sono contro gli accenti da poco. Fuori onda discutivamo su come si scrive fa, do, quelle parole di crasi, dove va l'accento che in realtà non ci va mai. Abbiamo scoperto sul fa l'accento non va mai. Ma c'è un'eccezione in cui potrei usare con l'apostrofo, che è quando è l'imperativo, cioè fa il bravo. E quando è tronco il fa, il fare. Fa il bravo, fa il bravo. Lorenzo, fa il bravo. Ma io porto avanti la mia istanza da anni sull'abolizione degli apostrofi e degli accenti, perché sono una vatura di balle. E poi diciamo che l'istanza per l'estensione del servizio BikeMe non è un tema centrale. Allora, la lotta è transizionale, si dice così in questi casi. Quindi possiamo abbattere gli orari del BikeMe e scrivere del BikeMe senza apostrofo. Perché? Non ci va, infatti non ci vuole vedere. Seri attento. Ma porca miseria. Vabbè, allora. L'altro giorno stavamo dando appunto la notizia sul fancy. Ridiamo la notizia. Domani apre il Merlata Bloom, cioè il nuovo centro commerciale. Mega galattico. Di cui tutti, tutti, tutti quanti sentivamo la mancanza del bisogno, no? Dopo controllo, io dico che è una ventina di minuti da rese. Non lo so. Meno. Forse anche meno. Non è meno, guarda, cosa faccio? Sostanzialmente anche, cioè, continuano le testate giornalistiche locali. Posso dire un secondo? Un piccolo cosa. Su Google Maps c'è già Merlata Bloom Milano. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Tu clicchi c'è già, ok, scusa. Sostanzialmente le testate giornalistiche riportano ancora che mancano 288 lavoratori, tra cuochi, camerieri e commessi, all'interno del centro commerciale che aprirà domani. E stavamo, quindi, comunque... Sì, pensa che hanno fatto un ufficio speciale, leggero proprio questa mattina appunto, dell'Affol di Milano dedicato a trovare gente per, sai già come finirà, no? Che non lo troveranno mai. Questi 280 come li trovi in 24 ore? 288, 24 ore. 288, 24 ore. 24 ore non li troverai mai. A parte che mi fa ridere che in alcuni... Cioè, mi fa ridere, mi fa sorridere, amici, internet e state giornalistiche locali, che ci sono ancora le foto dei rendering, nonostante sia tutto già pronto, no? Se domani apre. Sì, sì, sì. Però ci sono comunque le foto dei rendering. Allora, posso dire, invece, c'è un giornale, credo Corriere, che ha pubblicato le foto del nostro Andrea Kerchi. Andrea Kerchi ha fatto le foto già all'interno, si vedono già... Devo dire che non c'è molta differenza tra le foto e il rendering, perché sono completamente vuote, ovviamente, e tutto bianco e tutto molto... Comunque, allora, sono, da, diciamo, uscita di tangenziale del Merlata Bloom ad arrivare al centro commerciale di Arese, sono 11 chilometri, con il traffico che c'è in questo istante, sono 13 minuti. Quindi molto meno di 10 minuti quando non c'è traffico. Ma io tutto questo te l'ho ricordato perché? Perché tu mi fai, eh, il Bloom, il Bloom di Mezzago... Sì, tutto, bravo. Il Bloom di Mezzago esiste ancora, e l'altro ieri ci suonavano i karma, ed è salito sul palco Manuel Agnelli. Vedi? Vedi che esiste ancora il lotto insieme a noi? Ho trovato la foto su After Hours Fan Club. Grande il Bloom di Mezzago, il Bloom che a noi piace... Nightmares. Pignettati C. Nuclea. Bravissimo, vedi che hai imparato? Bravo. Sì, non ho neanche tolto le cuffie. No, no, e non hai neanche letto perché non ci vedi. Non l'avevo mai sentito. Beh, non male, visto che se un giorno no, non l'avevo mai sentita, non male, devo dire. No, questa specifica. Cioè, l'avevi mai sentito qui, perché toglie le cuffie. Eh, ma perché io, nelle paure, sì, 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 lo so, toglie le cuffie. Questa cosa qua è un alibi per fare sostanzialmente quello che mi pare qui. E fare lo snob, e snobare la musica moderna, e stare lì sempre con il tuo vasco e queste robe. Vai, dai, dimmi, 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 dimmi. Aveva detto che Carlo Munguzzi ha votato contro, appunto, la mozione. Sì. E due, bisogna chiedere se c'è stato il fuoco duraturo, non la tregua umanitaria. Nei commenti, c'è un po' quello che ci stavamo chiedendo prima, ma esattamente, scrive questo utente, ste emozioni qua, a cosa servono? Così proprio, ste emozioni qua. Se si votasse una mozione a favore dello stop della guerra immediato, cambierebbe qualcosa? Carlo Munguzzi risponde, ognuno fa la sua piccola parte. Bellissimo. Un'esposta giusta. Però è anche vero che ha bloccato un po'. E quello, giustamente, ognuno faccia la sua parte, però forse non blocchiamo per quattro volte il Consiglio Comunale. Ci ha fatto un po' strano quella roba lì. Andiamo in un'altra notizia al volo. Dai, veloce. Ieri, sempre durante il Consiglio, fuori protesta dei tassisti che, appunto, hanno protestato contro la giunta sala. Non tanto per la questione delle licenze, eccetera, tutte quelle robe un po' complesse da spiegare, ma semplicemente perché sono stati cancellati diversi posteggi taxi fuori dal Niguarda, fuori dal Policlinico, Cadorna, Piazza Tricolore, Cairoli, eccetera. E sostanzialmente il grande tema sollevato dai tassisti è il fatto che il posto taxi è un presidio di sicurezza ed è una sicurezza per la quale il Comune non spende niente e che quindi dovrebbero evitare di toglierli. Questa grande protesta, infatti, nel corso del Consiglio, se non sbaglio, Alessandro Verri, che è stato ospite dei nostri microfoni, ha proposto di stoppare momentaneamente, di sospendere momentaneamente la seduta per andare a sentire anche le istanze dei tassisti che protestavano fuori da Palazzo Marino. Diciamo che fare il Consiglio Comunale, fare il Sindaco a Milano, ti fai tanti amici, ecco. Ho capito questa cosa qua. Ma non esistono, posso dire, non esistono sindaci di grandi città. Devo dire che il Sindaco una volta disse una cosa, come fai fai, fai sbagliato, dicevano, per molti è così. Come fai fai, c'è qualcuno che dira che hai sbagliato e che non va bene. Ricordiamoci sempre che stando a Eligendo, sia il sito del Ministero degli Interni, che ti dà le percentuali di voto per le elezioni, il Sindaco più amato delle grandi città è il nostro. È il nostro, perché non c'è un votato con percentuali quasi bulgare, quindi, insomma, come dire. Al primo, è passato al primo turno. Infatti, infatti, la seconda volta. La seconda volta al primo turno, nonostante comunque tutti i giorni nessun visca di oro. Diciamo che nella maggioranza si dicevano, va bene. Nelle altre grandi città evidentemente stanno peggio. Un po' forse quello, infatti. Andiamo con la musica, perché, insomma, può essere che nelle altre città stanno cose. Magari c'hanno questi sindaci che vengono da lontano, vengono dalla luna, ad esempio, no? Caparezza, vengo dalla luna. Vengo dalla luna dal 2004 Caparezza, insomma. Posso dire, in questo caso non ho fatto lo snob. No, l'hai ascoltato. Visto che mi accusi... Al 33178-535-55. Avete notato qualcosa di strano in questa versione di Caparezza che mi ero mandato? Lo diciamo dopo, semmai. Ricordiamoci di dirlo, però, perché poi c'era una gente che rimane lì e diceva, c'era qualcosa di strano. in questa versione di Caparezza che mi ero mandato. 33178-535-55. Abbiamo 60 secondi. 60 secondi, segnaliamo che... Se li prendiamo così è finito i nostri 60 secondi, eh? Dici dove ci possiamo rivedere e ascoltare. Esatto, facciamo così. Perché mentre stavo leggendo ho detto, qua non ci stiamo dentro. Nei sono 30 adesso. Qua non ci stiamo dentro. Allora, 33178-535-55... 5, 5, 5 per scriverci. 25 sono? 3. Poi, per vederci, profilo YouTube di Milano All News. Per rivederci, profili social e YouTube di Milano All News. Per ascoltarci, dopo la pausa pubblicitaria, dopo i consigli per gli acquisti, sempre qua. 96.2 FM in streaming. Simple Minds. Le menti semplici. O semplicemente menti, non so. No, le menti semplici, come sia. Ma poi non c'è il genitivo sassone. Ma perché dobbiamo, perché dobbiamo incastrarci in queste analisi? Non so, se era di Rolling Stone avrei detto le pietre rotolanti. In quel caso nessuno avrebbe avuto da dire. Se era Paul Newman dicevo Paolo nuovo uomo. Quelle robe lì. Eccoci ritornati nella seconda ora di Good Morning Milano. 33178-535-555. Scriveteci come state facendo. Noi siamo sempre qui. Iniziamo la seconda ora con un altro po' di rassegna stampa. E poi chiaramente ci raggiungerà Walter Cherubini, presidente consulta periferie Milano, per parlare di periferie, di qualche evento, eccetera. Ormai avete imparato a conoscere. Ho detto che hanno scritto un messaggio dove dicono bellissimissima la mattinata con voi, ma che voleva dire con me? Sì. Cioè solo con me Fabriano. Ok, l'ho già detto, scusa. Allora, segnaliamo che... L'ho già detto che è arrivato un messaggio che dice... Nel corso, nella giornata di ieri appunto, la Statale ha reso noto che riqualificherà, la Statale, l'Università Statale di Milano, che riqualificherà le stanze per gli studenti in via Sforza, in zona Vigentino, attraverso un confinanziamento ministeriale di 13 milioni di euro. Via Sforza? Sì. Via, attendo lo Sforza. Non è noto, non è quello di via noto, credo sia quello lì, perché non so dove sia lo studentato. Ah, lo studentato? Scusa, scusa, scusa. Quindi non lo so. Ho guido le aule, scusa. Quindi l'intervento porterà alla realizzazione di 208 posti letto che andranno ad aggiungersi ai 1193 disponibili già adesso e ai 1100 che verranno realizzati al famoso MIND. MIND. Il totale di posti letto, quindi, da adesso, che sono 1193, nel giro, entro l'anno accademico, si scrive, del 2025-2026, raddoppierà. Quindi, comunque, da segnalare questo. Più spazio per gli studenti a Milano. Considerando che si tratta anche di adesso, se si risolve il problema delle case per gli studenti, c'è da risolvere il problema per il fatto che Milano non sia una città universitaria per quanto riguarda Carovita. Eh sì. Questo è il secondo tema. Beh, io spero che gli studentati abbiano delle agevolazioni. Cioè, non spero che non costi quanto un appartamento in nero. No, no, no. Quello che... No, no, no. Quello no. No, no. Quello, appunto, è il lato sistemato. Con 18 colleghi dentro la stessa stanza. Quello sarebbe il lato sistemato. Il lato non sistemato. Perché, comunque, quando vado fuori... Umido. No. È chiarissimo. Senza finestre. Quando vado fuori, col bagno cieco. Col bagno... Bravissimo. Vedi che ho... Ti ho tirato di me. Vedi, dai, capito. Quando si esce, comunque, hanno gli stessi costi. Calma. E' la gerda, la grande multinazionale che è a Milano. Quello sì. Per quanto riguarda... Ricordiamo quanto costa un aperitivo a Milano? Che mi sono rimasto sconvolto quando me l'avete detto l'ultima volta. No, dipende. Allora, un aperitivo con... Qualcosina da mangiare, pizzettine, eccetera. In alcune zone, sotto i 15, non trovi niente. Ma dai. Chiediamo sempre... Conferma la regia. La regia, classe 2002, cosa dice? Conferma, conferma. Per quello se ne sta Bergamo, lei. E fa bene. Per quello. E fa bene. Sì. Torniamo a parlare di trasporto pubblico. Perché ATM segnala che l'M2, quindi la verde, è rallentata. Soprattutto tra Cagliazzo e Loreto. Considerate maggiori tempi di viaggio. Ci scusiamo il nostro pronto intervento al lavoro per riparare un guasto alla linea. Questo dice ATM, non noi di Cristal Radio. Cioè, noi non sapremo dove mettere le mani. E sempre parlando di trasporto pubblico, ricordiamo che ieri si è tenuta la commissione chiesta dai vari comitati cittadini che chiedono il ripristino della linea 73 dopo che è stata sostanzialmente soppressa perché l'M4, in alcuni tratti... Fa lo stesso tragitto. Fa lo stesso tragitto. E possiamo dare la notizia che finalmente la 73 rimarrà come adesso. Nel senso che non viene rimessa. Ne hanno parlato, eccetera. Parole dure contro l'amministrazione perché all'incontro ne hanno stati invitati ATM l'assessore della mobilità Censi. E chi è arrivato? Assenti per altri impegni. Tutti e due, sia ATM che... Tante le proteste dei cittadini contro quindi l'amministrazione comunale e l'assessore. E vabbè, come dicevo, sempre farsi tanti amici è l'obiettivo delle amministrazioni comunali in questo caso. Andiamo con un po' di musica adesso. È Levante che ci racconta la sua Vivo alle 8 e 16 minuti su Crystal Radio. Good morning Milano! Levante con Vivo. Ben ritornati su Good morning Milano. Qui Crystal Radio, 96.2 FM. Ricordiamo ancora che la M2 in questo momento ha un tratto rallentato tra Cagliazzo e Loreto. Giusto? Dicevamo in entrambe le direzioni? Tra Cagliazzo e Loreto. Ok, in entrambe le direzioni. Quindi rallentamento per un guasto agli impianti. Ma continuiamo con le notizie. Andiamo a recuperare un attimo quello che stavamo dicendo prima perché 200 persone sono a corse, a corse, con la O un po' più chiusa. A corse. È appunto nella sala consigliare in cui si è tenuto appunto questo incontro per ripristinare il numero 70, l'autobus 77. 3. Samuele, 673 scusate, Samuele Piscina, capogruppo Lega Città Metropolitana di Milano era presente e scrive sui social stamane al fianco di centinaia di cittadini che sono stati privati dal comune di un servizio per loro fondamentale. L'autobus di quartiere numero 73 dell'assessore Censi, appunto come stavamo dicendo prima, invitata all'incontro, neanche l'ombra. Ecco la considerazione che la giunta comunale ha dei milanesi. Ed effettivamente pubblica una foto con l'aula sostanzialmente gremita di gente. Perché comunque, oh, 200 persone... No, Piscina, diciamoci, si è andato lì per fare quella foto. Qual è l'apporto che hai portato a questa discussione? Quello lo fanno tutti. No, ha sempre sollevato questo discorso. Lui, la bossi... Sì, però quando era presidente del municipio non è che mi sembrerebbe fatto... Scusatemi, adesso esco e no, perché va bene... Se è l'opposizione, va bene, falla, però facciamola in maniera decente, non sempre a dover criticare, sempre a dover attaccare. Poi il fatto che non ci siano stati neccensi nell'altro, ma fa girare le balle a me che non c'ero, pensa a quelli che c'erano, ovvio, lo capisco, però non lo so. Ho sempre un po' strumentalizzare tutto questo. Perché adesso, sostanzialmente, tutti i politici, a tutti i livelli, vado nelle manifestazioni, il 40% sono buono per la causa, i 60%, per far vedere di essere andati, non è una novità purtroppo quella, secondo me. Ed è trasversale, ecco. Purtroppo è trasversale. Sì, non è che adesso... Samuele, non ci ho con te, non ci ho con Piscina. C'è un po' con questo modo di fare politica che, ahimè, prende anche quelli bravi, perché è un bravo ragazzo, Piscina. Cioè io c'ho avuto a che fare, è proprio un bravo ragazzo. Prende anche bipartisan, da destra, sinistra, centro e extraparlamentari, prende tutti. Questa cosa di strumentalizzare sempre, fare la foto fatta giusta in modo che... Perché la stessa foto la potevamo pubblicare uno invece del centro-sinistra dicendo grande affluenza, grande successo proprio della nostra riunione in cui vogliamo discutere con i cittadini. Vedete quando l'amministrazione comunale ascolta i cittadini. E cioè, stessa foto, due storytelling diverse. Anche perché comunque si tratterebbe di una foto, comunque di un incontro che non ha un'appartenenza politica. No, infatti. Perché tra quelli che rivolgono la 73 sicuramente c'è qualcuno che ha votato Sala, c'è qualcuno che ha votato il Partito Democratico, eccetera, eccetera. L'Europa Verde, eccetera. Quindi è una cosa che è scissa dalla politica. Certo che così ottiene, diciamo, cioè ha quella valenza che magari, anzi, sicuramente, come sempre, va a peggiorare, diciamo, la possibilità di ottenere effettivamente un risultato. L'ultimo risultato che fa è quello di allontanare la gente dalla politica. C'è poco da fare. Sì, perché crea le solite fazioni. La solita narrazione tra io contro di te e chi se ne frega se serve a qualcuno, ma siamo contro noi, quindi. Questo è un regalo che ti faccio a te, invece, caro mio Lorenzo. Senti cosa parte. Il loro storia è tese. Torniamo a serie perché c'è la persona più seria delle periferie milanesi. Il presidente della consulta periferie Milano, Walter Cherubini, qui con noi. Buongiorno, Walter. Buongiorno e ben ritrovati. Perché le periferie sono una questione seria, non una roba così da prendere sempre un po' così con lo storytelling, quelle robe lì che a noi non piacciono più tanto. A noi piace andare poi al sodo della questione, giusto, Walter? E' come la vita e poi un libro. Insomma, scrivere un libro è abbastanza interessante. Siamo anche nel periodo, in questi giorni, di book city e quindi di libri ne vengono scritti una marea. Iniziative sono anche interessanti, anche se poi rimandano di anno in anno. Il tema di fondo è che la vita invece è una continuità, una continuità fatta di elementi positivi, di elementi negativi, di vita vissuta. Ecco allora che generalmente la viviamo anche in una comunità. Allora, questa comunità è un po' il centro della questione. Da questo punto di vista c'è un'intervista di qualche giorno fa ad Alessandro Balducci, che è stato prorettore del Politecnico di Milano e anche per un certo periodo breve assessore all'urbanistica del Comune di Milano. E all'interno di questa vicenda delle città fa una sottolineatura. Città, progetti dal basso. Ecco, questo qui un pochettino, questo dal basso, vediamo quali sono le condizioni perché anche questo basso possa avere un rilievo. Altrimenti, come spesso accade, stiamo parlando di città, metropoli come Milano, ci sono tantissime iniziative che partono dal basso e al basso rimangono e non diventano invece vettore per la città. Perché mi sembra che da anni noi raccontiamo di situazioni che dal basso nascono e come, cioè appunto ce ne sono tantissime iniziative dal basso e che poi rimangono nel basso, cioè non riescono a fare quel passetto in più per invece diventare anche generative per magari tutta la città. Esattamente, uno degli altri temi che viene posto è quello della comunità. Allora sulla comunità in questo momento non sto a raccontarla, ma voglio solamente citare, dato che siamo nel periodo di Book City, un libro che mi sembra abbastanza interessante da questo punto di vista perché entra nell'analisi strutturale di come generare comunità, alla luce di un'esperienza però fatta sul campo, in particolare nel Bresciano, da Stefano Sarsi Sartori che ha scritto qualche tempo fa il libro Comunità e democrazia nei quartieri. Noi abbiamo molto enfatizzato in questo periodo il tema dei quartieri, però un conto è enfatizzare la parola quartieri, un conto è costruire e anzi individuare gli strumenti per costruire delle comunità, anzi il quartiere che sia una comunità. Tutto un percorso da imparare perché l'evidenza dei fatti dimostra che purtroppo queste aspirazioni non hanno trovato una rispondenza, se non piccole isole ma che non modificano l'ambiente della città, benché vada, così diciamo che arricchiscono alcune piccole macchie di leopardo all'interno della città e chi sta bene sta bene e chi non sta bene continua a non rimanere bene. Ecco questo qui è un pochettino il punto da affrontare. Il tema appunto non è per niente semplice, come dicevo prima, e va affrontato seriamente. Quali potrebbero essere però appunto le modalità per riuscire a sviscerare questa problematica e magari finalmente riuscire a risolvere? So che insomma ti ho chiesto la ricetta da Coca-Cola, ti ho chiesto in un certo senso. Ma la prima cosa che bisogna affermare è la continuità, nel senso che noi non possiamo pensare di affrontare qualsiasi tema in maniera episodica. Facciamo una a tre giorni e poi ci rivediamo fra un anno e due a fare ancora una a tre giorni. Ci sono veramente, mettiamoci nella logica dei ricercatori. La logica dei ricercatori, uno non è che si mette lì tre giorni a ricercare e poi vede fra tre anni, ma c'è un continuo scambio, una pressione proprio osmotica con altri. Qualcosa di strutturale. Esattamente, allora per dare continuità bisogna dare anche, diceva un grande educatore, se un'amicizia è vera, si struttura. Se io sono ai tempi scolastici, ho capito, se il tuo vicino di banco ha problemi, non riesce a capire determinate cose, gli puoi dire sì, io ti sono vicino. Sì, però se ti metti a studiare assieme, forse, ecco, e non solamente così casualmente, ma dici, va bene, tutti i martedì ci troviamo a studiare quel diavolo di teorema che non riusciamo bene a comprendere. Ecco che allora tutti i martedì ci si ritrova. È un po' il tentativo che stiamo facendo, stiamo riprendendo con una scuola di periferia, ma ne parliamo sicuramente. Ne parliamo dopo, intanto andiamo ora con un po' di musica. E bentornati a Crystal Radio, bentornati con Walter Cherubini, consulta periferia Milano. Walter, ci hai parlato appunto un articolo di giornale, no, quest'oggi? Sì, diciamo che è un punto di riferimento, anche perché è abbastanza interessante. Poi è legato anche a un'iniziativa di cui accenneremo dopo, ieri, oggi e domani, della Fondazione Fentrinelli, che presenta il 47esimo annuario sulla vicenda delle città. Ecco, in questa intervista, tanto per rimanere al nostro tema, cosa dice Balducci? La domanda è, si tratta di sfide che le città singolarmente non possono vincere, è la domanda. E per questo Balducci dice, per questo la Commissione europea da anni invita gli Stati membri a dotarsi di un'agenda urbana, per cui le periferie diventerebbero una questione che i sindaci non dovrebbero affrontare da soli. Le città sono state il motore di sviluppo di un secolo detto, non per caso, urbano. Ecco, questo è il tema. Molto spesso noi, come cittadini, deleghiamo a chi chiamiamo a rappresentarci la soluzione dei problemi. Ma se ci allacciamo a quello che diceva Renzo Piano, e cioè la periferia è la città che sarà o non sarà, è chiaro che la città la facciamo tutti quanti. Allora, il problema di fondo, Balducci pone anche il tema di iniziative poste dal basso. Ecco, ma queste iniziative poste dal basso devono avere anche un'interlocuzione amministrativa e da questo punto di vista l'articolazione, la struttura organizzativa delle amministrazioni comunali in generale e in particolare di quella di Milano non è organizzata per aiutare dal basso. Noi abbiamo dei municipi che sono vuoti, anche perché siamo un po' monotomatici oggi, ma riprendiamo sempre il pensiero di Balducci. Balducci fa una sottolineatura nella, diciamo così, premessa al libro Il governo della città complessa verso una nuova formazione, dove dice l'attrezzatura culturale e tecnica di chi amministra le città è rimasta la stessa con le sue settorialità, con le sue piante organiche, le sue strutture formate da competenze separate. Questo è il tema di fondo. Nel momento in cui noi vogliamo generare comunità e ragioniamo in termini strutturali con competenze separate è una contraddizione in termini. Questo è il tema che spesso poi andiamo a affrontare, quello appunto dei comparti che non si parlano tra di loro e anche di alcuni, della distanza dei comparti poi dalla vita quotidiana di tutti noi poi. Distanza? Ma noi pensiamo per esempio su un territorio. Operano, nella nostra articolazione cittadina, noi siamo articolati in nove municipi. Nove municipi che, badiamo bene, hanno popolazione, il municipio più densamente popolato, anzi più popolato è il municipio 9 che sta a nord di Milano e ha tanta popolazione, oltre 190.000 abitanti come Brescia. Il municipio invece che ha minore popolazione è il municipio 5 che sta a sud e ha oltre 120.000 abitanti come Bergamo. Allora, noi abbiamo questi municipi che nelle intenzioni di chi ha introdotto il decentramento amministrativo a Milano per una città policentrica, per un governo della città policentrica, nel 68-69, aveva individuato come governo del territorio complessivo. Ecco, noi siamo in una situazione dove ci sono numerose funzioni comunali, settori comunali che operano, dalla polizia locale, agli asili nido, cioè abbiamo proprio tantissime realtà che operano ciascuna separata dall'altra. Ecco, sul medesimo territorio. Ecco che allora, se noi non individuiamo un elemento organizzativo che faccia da raccordo sul territorio, poi è inutile che parliamo di quartieri. È una vana speranza infondata perché gli mancano proprio l'ABC amministrativo, dove l'amministrazione non è tutto, ma è al servizio di tutto. Ma se l'amministrazione non è organizzata bene, capite che il servizio non lo farà mai. Valdro, per capire bene e diciamo anche imparare queste cose, c'è la scuola di periferia, giusto? Dai, un minuto sulla scuola di periferia che poi, ahimè, dobbiamo già salutarci quest'oggi. Allora, dobbiamo assicurare la continuità di riflessione, di coinvolgimento e per quello che abbiamo ripreso dopo la pandemia, abbiamo strutturato un percorso che preliminarmente ha alcuni appuntamenti in questo scorcio d'anno. Ieri a Quartogiaro, questa sera a Niguarda, successivamente sarà Lambrate e poi allo Stadera e poi anche tematico Abruzzano sul decentramento piuttosto che a Quartocagnino sulla comunicazione e l'informazione territoriale. Proprio il tentativo è quello di mettere a fattor comune chi opera sul campo associativo di comitati, chi si interessa alla vita della città con chi nelle istituzioni si interessa nella vita della città e quindi farli dialogare in maniera continuativa. Noi pensiamo, senza fogare nessuno, di fare in ogni luogo cinque appuntamenti bimestrali, ma proprio perché durante l'anno ci si ritrovi e si assicuri una continuità strutturale a fare che cosa? a vedere come gli apporti che ci sono sul territorio possono contribuire con una connessione però cittadina perché altrimenti se si rimane sempre a livello di singolo territorio non si va avanti. Bisogna avere un livello cittadino, un livello cittadino, il collegamento e c'è il tavolo periferie Milano che si riunisce mensilmente ospitato dalla presidenza del Consiglio Comunale di Milano con varie organizzazioni cittadine però diramate sul territorio ecco che allora si crea questa connessione tra chi lavora sul territorio e cerca di affrontare anche tecnicamente le problematiche a partire anche dal decalogo delle periferie per ripartire e dove se mettiamo il primo punto è esattamente il tema del decentramento e i municipi uno degli altri temi che abbiamo cercato di affrontare nella logica della rigenerazione socioabitativa è per esempio quello delle case popolari dove se rimaniamo sempre all'intervista di Balducci si è cercato di fare un tentativo anche sui prezzi delle case eccetera con l'housing sociale che però non ha dato cioè non ha risposto alle attese il tema dell'housing sociale quindi è da rivedere ecco però dobbiamo fare una riflessione che parta dalle periferie non che arrivi se riesce nelle periferie il decalogo per ripartire giusto come è che è il decalogo dalle periferie per ripartire magari settimana prossima ne vediamo un po' questi 10 punti che dici Walter potrebbe essere una buona idea no? e allora io ti ringrazio Walter anche quest'oggi per averci portato in periferia e aver raccontato bene e seriamente qual è il tema delle periferie ci rivediamo fra pochissimi secondi per salutarci per darci appuntamento poi domani ma poi vi spieghiamo tutto durante la nostra sigla prima di salutarci però un'ultima canzone Marco Mengoni insieme a Delodì con Pazza Musica Grazie a tutti Grazie.